Grande partecipazione nella sala consigliare del comune di San Giovanni Teatino al convegno organizzato da Amministrazione Comunale e Associazione Gaia Onlus Familiarità e Genetica. Lavori aperti dai saluti del sindaco Luciano Marinucci e con quattro interventi di assoluto rilievo del professor Riborio Stupia, docente dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara, sull'uso dei test genetici per la prevenzione dei tumori ereditari della mammella e dell'ovaio. Del dottor Lucidi, chirurgia profilattica nei tumori eredofamiliari dell'ovaio, della dottoressa Di Profio, le indicazioni psicologiche della diagnosi di mutazione genetica e del professor Ettore Cianchetti, responsabile dell'Unità di Senologia e Chirurgia della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, su tumori eredofamiliari della mammella, chirurgia profilattica o controlli. Una prevenzione un pochino diversa perché riguarda un campo specifico, cioè quello del paziente ad alto rischio con delle alterazioni genetiche che predispongono all'insorgente tumore. È un aspetto della senologia che sta emergendo in questi ultimi tempi ed è quindi un problema da affrontare in maniera precisa e decisa. Conoscere per vincere, lo slogan scelto per l'evento da Gaia, generosità attiva, ideazione attenta. Un'associazione nata nel 2002 per sostenere le donne operate al seno attraverso il volontariato svolto nella clinica oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti e presso i reparti di senologia, ginecologia e oncologia dell'ospedale Bernabeo di Ortona. All'opera di volontariata affiancano altre iniziative rivolte al miglioramento dell'informazione e delle conoscenze in campo patologico, diagnostico e legislativo. Io reputo che sia una cosa primaria, anch'io con le mie associazioni non faccio altro che fare divulgazione, entriamo nelle scuole, parliamo perché bisogna cominciare a fare un salto di qualità, non parlare più di prevenzione secondaria soltanto, cioè trovare un tumore quando è piccolo, ma incominciare a pensare che i tumori potremmo evitare che vengano. E quindi questa è la prevenzione primaria e si può fare incominciando a parlarne molto e a fare molta prevenzione primaria principalmente con l'informazione.